Sebastien Ruei, permettimi una frase, un Lugano decisamente a mille, considerando anche il traguardo tuo di stasera. Sì, sono contento che la serata è andata così, tutta la serata, dall'inizio alla fine. È una bella vittoria per noi e belli tre punti per tutti. Lugano già ha praticamente formato play-off, se vogliamo. È partito fortissimo e ha dominato dall'inizio alla fine. Sì, abbiamo cominciato bene, abbiamo lasciato un po' giocare e tornare a Ambri nella partita, ma alla fine abbiamo fatto la differenza e abbiamo visto che tutti sono capaci da segnare e quella è la cosa positiva di questo Lugano. Cosa immagini di ricordare di questa serata molto particolare? Sicuramente l'inizio, quando la mia figlia era sul ghiaccio con la Vicky per darmi il regalino. Questo è sicuramente, i tifosi sono sempre, sono stati molto molto dietro di me tutta la mia carriera e soprattutto stasera. Niente, un ringraziamento a tutti. Forti emozioni, quante partite hai ancora nelle gambe? No, ne ho ancora un paio con un po' di anti-infiammato. No, è un scherzo. Ne ho ancora un paio. Adesso prendo, niente, già dall'anno scorso, mi godo ogni momento sul ghiaccio e vedremo. Adesso, niente, io vorrei ancora una cosa e questa arriva solo alla fine della stagione, ma darò tutto per questo. Congratulazione e grazie mille. Grazie mille, grazie a te.